Giorno dopo giorno il vasto campo di alta pressione sta conquistando sempre più la nostra penisola, specialmente le zone settentrionali e quelle centrali tirreniche. Al sud resiste ancora una circolazione settentrionale che tiene a bada per il momento il gran caldo che invece sta interessando il resto d'Italia. Sulla nostra regione avremo condizioni di tempo prettamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, tranne qualche innocua nube pomeridiana nelle zone interne e lunghe rilevi appenninici. Il clima sarà comunque gradevole grazie alle correnti più fresche settentrionali che ancora ci proteggono dal gran caldo. Le temperature saranno sostanzialmente stazionarie, con qualche lieve aumento nelle massime. I valori minimi andranno dai 13 gradi di potenza ai 16 di matera, quelli massimi raggiungeranno i 26 gradi a potenza e i 29 a matera. I venti saranno ancora settentrionali di debole o moderata intensità su tutta la regione. I mari risulteranno generalmente quasi calmi o poco mossi sia all'Oionio che il Tirreno. Tendenza per domani. La situazione meteorologica non accuserà nessun cambiamento significativo. Il vasto anticiclone garantirà per diversi giorni ancora condizioni di bel tempo e temperature via via più calde. Tuttavia il sud rimarrà ancora al margine della gran calura che interesserà gran parte della nazione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS